Sono stati qui i tuoi domenica, tuo padre mi ha chiesto due notizie, deve essergli costato parecchio. Perché non lo chiami? Gli manca. Non ci credo. Quanto tempo ti resta da fare di servizio civile? Cinque mesi. E poi? Non lo so. Perché? Così. Non è che stai cercando di dirmi, pensa al tuo futuro Walter? Ci pensano tutti al futuro. Farebbero molto meglio a pensare a ciò che gli capita tutti i giorni.